Simone ho comprato il pollo Olio Vai pollo Dillo come direbbe Sgarbi Ho preso un pollo Meglio un pollo che una capra Vienello, Raimondo Vienello che oggi c'è l'insalata No, l'insalata russa E io invece vorrei mettere Sandra Poi intorno ho preso anche i pomodorini conditi Come lo direbbe Gianni Morandi Ma sai I pomodorini insieme sono dei capitani Correggio Stiamo uniti Perchè per andare in un Stomago così grande Stiamo uniti Stiamo uniti Dai Bologna Dai che ce la facciamo Ah i filmaggi nelle produzioni Numero uno Io rispecchio la serietà Rispecchio Vedi Ah del mio socio che si è impossessato del mio tavolo Questo è lo showroom della filmaggia Il tuo posto è lì Insieme alla Penny Vada Rosaletta Sto a posto Cioccolata Cioccolata ma sono dimenticato l'Evigno Ma che miseria Stavo a casa No no Ah sono mangiato Si è mangiato Lorena Senti ma Gianni Morandi Che entra nello showroom Di filmagginosite Cosa farebbe qua? Ma sai Intanto È uno showroom Sgarbi Ma lei si sposerà mai un giorno? No io sono per l'amore libero Sono felice Fidanzato E non voglio assolutamente fidanzarvi Cioè Non mi voglio sposare Non mi fare Incavolare Che sono sempre stato incavolato Però ti voglio il sacro Non lo vado mirando La parrucchiera qua a fianco Voi sei dalla parrucchieria 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 Parla vicino Ma perché non risponde? Lo sento Buongiorno 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 Sono Vittorio Sgarbi Mi passa la titolare per favore Non sta Pronto Pronto? Sì Mi sente? Sì Un po' male Però si la sento Buongiorno Sono Vittorio Sgarbi Va beh lo chiedo lei Ascolte Siccome stasera sono presentare sono ospite qua a Budrio sono di passaggio la sfilata autunno-inverno quella di Budrio è presente? quella che fanno qua a Budrio ho sentito male mi sente? mi sente? sono Vittorio Sgarbi mi sente? sì ecco siccome sono di passaggio qua a San Lazzaro perché stasera sono ospite alla sfilata autunnale quella che fanno a Budrio e sono di passaggio le volevo chiedere se c'erano due posti per me e per una mia amica che voleva venire a fare i capelli ma sì certo quando? a che ora è disponibile oggi? c'è nel pomeriggio verso le 4? pomeriggio verso le 4 va bene ecco ascolti scontro naturalmente mi raccomando perché poi è una cosa promozionale anche per stasera per Budrio mi raccomando la titolare quando è che ritorna? la titolare viene oggi pomeriggio perché adesso è uscita e sicuramente tornerà oggi pomeriggio vabbè comunque anche lei ha capito chi sono io mi sente? Vittorio Sgarbi ecco allora ascolti io metto le 4 Sgarbi siamo di passaggio e niente mi raccomando due ok ascolti non voglio rotture di scatole cerchi di se c'è qualcuno che vuole chiedermi autografo che cosa voglio stare in pace un attimo mentre mi fanno i capelli no guardi è una giornata tranquillissima grazie le chiedo scusa per motivi di privacy perché non voglio rotture di scatole no 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 non si preoccupi guardi piove è una giornata molto tranquilla piove e rompe i maroni certo va bene la ringrazio vediamo oggi alle 4 lei chi è? lei chi è? come si chiama lei? io sono Giovanna Giovanna la vedo oggi? si si io ci sono sempre va bene Giovanna grazie buona giornata e la domenica ci sono sempre ci sono sempre c'è ciao e qua a fianco alla parrucchia adesso ci andiamo bella Giovanna come stai? tutto a posto? beh cosa facciamo? s'affetto ma qui dei quartoni li vengono a prendere? bella Giovanna o sono ancora lì da segno? lei è la Gio allora volevamo dirti una cosa bella la Giovanni volevamo dire una cosa allora termi tutto Giovanni le faccio i complimenti perchè Vittorio Sgarbi oggi alle 4 verrà qua a fare eri solo? ma se lo che sia capra che non si alza capra che non si alza capra capra che non si alza capra capra che non si alza capra come vogliono capire che è quella capra di Simone Venite che evita Vittorio Sgarbi capra forse è uguale però abbiamo fatto uno scherzo siamo su